Uè, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, grandissima giornata, quella che vivremo insieme oggi, perché tra poche ore ci sarà il downtime dei server e l'arrivo dell'Apache 9.30, che porterà sicuramente una bella ventata di novità e di chiarimenti su quello che sta accadendo, ovviamente nella main story di Fortnite in questa season numero 9. Nel video di oggi ragazzi appunto approfondiremo alcuni dettagli su questa patch e parleremo anche del tweet ufficiale che ha pubblicato proprio Epic Games annunciando finalmente, oramai prossimi alla settima settimana della season 9 dell'arrivo del nuovo slurp, della nuova bevanda, che forse andrà appunto a sostituire il succo slurp. È un bug ragazzi, non so se verrà fissato, probabilmente ne sono a conoscenza quelli del team, ma c'è un metodo per vincere qualsiasi LTM ragazzi, funziona con le LTM, incrementerete le vostre vittorie in maniera incredibile. Voglio prima però ringraziare tutti coloro che supportano il canale ogni giorno utilizzando il mio codice creator Xiodarone. Grazie di cuore ragazzi per iscrivervi in tantissimi, mi raccomando di non dimenticare di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live. Ma prima, ecco ve la devo fare, la domandina, dai ci tengo tantissimo, mi rispondete sempre in tantissimi e la domanda di oggi è molto interessante, ma qual è secondo te il regalo più bello che ci viene dato in questo pass battaglia? Come ogni season, 100 premi divisi tra V-Bucks, skin, balli, coperture e chi più ne ha, più ne mette. La cosa che ti piace di più, qual è? La mia ragazzi è il premio del livello numero 87 ed è la skin Demi, davvero meravigliosa. Non vedo l'ora di sbloccarla, oramai mi mancano solo due livelli del pass battaglia e giovedì, se tutto va bene, finalmente potrò provarla. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, siamo subito con il messaggio apparso nella dashboard in-game, quindi tempo di inattività programmato. Secondo me non sarà così tanto il downtime perché già nell'aggiornamento della 9.20 sono stati giù un'ora i server e non è cambiato nulla in mappa. La sospensione del servizio per la patch 9.30 inizierà alle 9 del Central European Time. Il nostro fuso orario è più 1 quindi per noi sarà alle 10. Vi invito a rimanere in live, noi saremo in diretta perché dopo aver registrato la patch notes in tempo reale vedremo tutti i leaks ed è divertentissimo ragazzi vederli insieme. Tra l'altro abbiamo anche, come vi anticipavo, il tweet ufficiale di Epic Games che dice A refreshing new beverage arise in the 9.30 update tomorrow, June 18. Eat, eat the spot. Quindi una nuova bevanda rinfrescante arriverà nella patch di domani e pubblicano anche ovviamente due emoji molto simpatiche relative al mare. Oh, quello, oh cosa? Quello che pensiamo ragazzi, quello che penso e che molti leakers pensano è che si tratti appunto dell'immagine, anzi dello spezzone nel trailer della season 9 del Peely Juice, quindi il succo di banana che secondo me non è assolutamente rinfrescante e non credo neanche sia possibile fare del succo di banana ma come vi anticipavo ecco qua l'immagine che tutti ricorderete sicuramente del trailer della season 9 dove c'è John C. Jones che appunto si nutre di questo succo. Non sappiamo gli effetti, non sappiamo se sarà effettivamente il succo alla banana ma staremo a vedere insieme che cavolo vorranno inserire. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo del glitch di cui vi anticipavo a inizio del video quindi come ottenere vittorie nelle LTM senza alcuna fatica. Voglio farvi vedere uno spezzone ragazzi perché è davvero incredibile e guardate un po' qui siamo, non si sa bene chi sia la persona selezionate in questo caso Ord Rush LLTM quindi l'orda senza il riempimento, nel senso non riempite, siate da soli, entrate in game come vedete questo è un profilo nuovo, provato proprio per testarne l'effettiva funzionalità una volta che vi avrà buttato in game, abbiate un attimino di pazienza ragazzi ovviamente che carichi tutto quello che deve caricare e guardate che cosa fa lui perché è davvero super incredibile, a parte che usa una risoluzione assurda guardate come sono piccoli gli elementi in game, cioè la mappa è microscopica e non lo so una volta che sei sull'autobus devi jumpare e abbandonare, molto semplicemente ragazzi adesso lui è jumpato, cliccate il tasto per uscire, leave match che sarebbe abbandonare la partita e una volta tornati in lobby, guardate che cosa succede assurdo questo bug ragazzi, assurdo, non so che gusto ci sia a farlo però se volete prendetelo adesso avrete una vittoria in più, se andate nelle statistiche si vede benissimo ragazzi eh che cavolo sei tu, si vede benissimo ragazzi nelle statistiche che ti avevano aggiunto una victory quindi se volete incrementarle perché non utilizzarlo ma andiamo avanti ragazzi è interessantissimo invece quello che è stato recuperato ieri nei file di gioco, insomma si parla di un backpack per l'evento del 4 luglio ragazzi il 4 luglio 1776, il giorno di indipendenza degli Stati Uniti d'America che hanno deciso appunto di sciogliersi dal domenio della Gran Bretagna come ogni anno Fortnite decide di omaggiarli l'anno scorso abbiamo avuto l'orsetto, quello con i fuochi d'artificio e i colori americani quello che state vedendo è uno spaccato di un possibile backpack e la cosa che ci riconduce all'immagine che sto per farvi vedere è proprio la parte centrale dove si vede la vanga, questo potrebbe essere molto probabilmente il backpack di una possibile copertura totale per la skin del rapace quindi ragazzi tanta roba non sappiamo adesso se verrà inserita direttamente in questa patch probabilmente sì, ne scopriremo di più ovviamente man mano che passeranno i giorni l'animazione che avete visto prima ragazzi, intanto qua ci sono altri dettagli del 4 luglio quindi le colonne dei fuochi d'artificio e i fuochi d'artificio l'animazione che avete visto prima ragazzi fa parte di questa immagine che è davvero meravigliosa ed è stata presentata alle 3 ragazzi, guardate, guardate un pochettino delle animazioni divertentissime che hanno portato ufficialmente alle 3 di Los Angeles questo è il momento in cui si è formata la banana ma perchè? ma perchè? la squadra con il pesce secco il tuo outfit non fa paura gli dice cambia il tuo outfit sono stanco di questo insomma ragazzi, insomma ragazzi, molto divertenti anche queste animazioni che ci hanno comunque fatto sicuramente sorridere beh ragazzi, che dire, fra poche ore sarà disponibile la patch noi ci vediamo in live tra un'oretta mi raccomando, non mancate ciao! 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 ciao!